Tra poco Sul canale 17 rifanno TV l'informazione locale Ruba una bice elettrica, arrestato un clandestino Semafori spenti, i 5 stelle rifanno i conti all'assessore Atti vandalici nel parco pubblico, residenti allarmati Per la raccolta delle olive si pronuncia un anno orribile Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Cominciamo dalla cronaca, una breve di cronaca Per dirvi che un clandestino di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia Municipale di Fano Si tratta di un extracomunitario di 28 anni, clandestino con precedenti penali Che ha rubato una bicicletta elettrica ad un anziano signore È caduto in Viale Dante Alighieri a Fano Una pattuglia della Municipale stava transitando in quel momento nella via E le grida e i richiami dell'anziano hanno attirato l'attenzione degli agenti Che sono riusciti così ad afferrare il ladro colto in flagranza di reato E a condurlo in cella di sicurezza Questa mattina c'è stato il processo per direttissime È stato condannato a piede libero con obbligo di firma E adesso cambiamo argomento Parliamo dei semafori I semafori che a Fano sono tanti Non ne funziona nemmeno uno chiaramente La maggior parte sono fuori uso Di questo ce ne siamo già occupati in passato L'assessore Fanesi aveva detto che per sistemarli ci volevano 70.000 euro I 5 Stelle invece si sono messi giù a fare due conti E guardate un po' che cosa hanno scoperto Altro che 50.000 euro Per disfarsi di quello proprio di semafori fatiscenti, rotti e pericolanti Bastano solo 7.000 euro Parola di 5 Stelle Tempo fa vi avevamo mostrato in un servizio il cimitero di semafori rotti Non funzionanti e pericolosi in alcuni casi Che si trovano nella zona di Porta Maggiore a Fano Oltre ai pali di sostegno di alcuni Completamente rivolti verso l'interno della carreggiata L'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi Da noi interpellato a riguardo Anche sotto la segnalazione del movimento a 5 Stelle Che portò all'attenzione della stampa Questo aspetto poco edificante della città Ci rispose che per eseguire lo smantellamento dei vecchi semafori La cifra necessaria era di 50.000 euro Cifra che si era deciso di spendere in maniera diversa Ora i pentastrellati ritornano sull'argomento Denunciando però altre cifre a riguardo Ben lontane da quelle dichiarate dall'assessore Fanesi L'assessore aveva detto che ci volevano 50.000 euro Per rimuovere questi 10 pali 10 semafori ormai abbandonati e inutilizzati Abbiamo fatto un accesso agli atti I documenti invece dicono Che intanto è stata interpellata solo un'azienda Quindi quando si fanno dei preventivi Forse è meglio interpellarne più di una Per avere dei prezzi più ragionevoli E oltretutto questi 50.000 euro Vengono spesi in realtà Soprattutto per il cambio di lampade e centraline Ma un'attività ormai del tutto inutile Visto che questi semafori rimarranno sempre inutilizzati Visto che ormai ci sono le rotatorie E quindi non saranno più utili a questo scopo Il resto, vale a dire circa 7.000 euro Sono la spesa esatta Proprio per asportare, togliere i pali E dismettere i semafori ormai abbandonati Oltretutto di tutta Fano Quindi non solo di questa zona in particolare Quindi un prezzo diciamo Sicuramente molto molto più basso Rispetto a quello annunciato dall'assessore Oltretutto l'assessore aveva anche promesso Di rigirare i pali della segnalazione luminosa Dell'attraversamento pedonale Verso appunto all'interno della carreggiata In modo che sia visibile per gli automobilisti Tutto questo ancora non è stato fatto Oltretutto con la nuova asfaltatura La segnaletica orizzontale Quindi le strisce pedonali non ci sono E quindi i pedoni in questo periodo Sono praticamente in mezzo a un circuito di macchine Che oltretutto non sanno neanche come comportarsi Perché la segnaletica appunto Per l'attraversamento dei pedoni non c'è Il 29 settembre è la festa È il giorno in cui la Chiesa celebra I Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele Michele è anche il protettore della Polizia di Stato E la Polizia Stradale di Pesaro Ha ospitato oggi il Pullman Azzurro Ha aperto il piazzale interno della sede Per dare la possibilità ai cittadini Di vedere le strutture e di mezzi speciali in dotazione Gli agenti hanno inoltre svolto attività di docenti Di sicurezza stradale Ai bambini delle scuole A fare gli onori di casa il comandante della stradale Antonio Colantuono Andiamo adesso invece a Bellocchi di Fano Perché i residenti ci hanno chiamato Per denunciare atti vandalici Noi siamo andati a vedere E guardate che cosa abbiamo trovato Gli spazi verdi delle nostre città Sono isole da difendere e da proteggere con ogni mezzo Il verde ci parla del tasso di vivibilità di una comunità E il livello di benessere della società di oggi Si misura anche attraverso questo parametro Un parco pubblico è un tesoro Da difendere, proteggere e rispettare anche Un parco è una perla verde in una distesa di cemento Un'isola felice, un piccolo angolo di paradiso Ma non tutti hanno bene in mente questo concetto Anzi per taluni ciò che è di tutti e di nessuno E se è di nessuno ci si può fare quello che ci si vuole Sporcare, imbrattare, rompere, calpestare A Bellocchi il parco dietro le scuole tombari È ostaggio da diverso tempo ormai Come ci riferiscono i residenti Di teppistelli, poco più che adolescenti Che col favore del buio Danno sfogo al loro vandalismo Ultimo episodio, ieri sera Con conseguenze devastanti E stamattina ben evidenti I mattoni che si trovano ai piedi di quell'albero E quelli che sono qui vicino a me Provengono da pochi metri Qui c'è una salita con delle scale E il selciato era stato naturalmente provvisto Anche qui di mattoni Come vedete sono stati letteralmente sradicati Dalla loro sede Da qui probabilmente vedete E non si sa da chi Sono stati ammassati In quella zona E poi c'è questa bellissima area Insomma questo anfiteatro Adibito sicuramente Per dare la possibilità A tanti di così Di qualche spettacolo Oppure di ritrovarsi ai giovani Che però ahimè È completamente deturpato da scritte E quindi insomma sicuramente Non offre uno spettacolo migliore Di quello che è Tutto il vicinato Qui la notte deve subire schiamazzi Da parte di tutti i ragazzini Rispondono anche in modo molto arrogante Mangiano le cose nella panchina Tre metri c'è il cestino Buttano tutto a terra E questa è stata la sorpresa di stanotte Ieri pomeriggio eravamo qui al parco Era tutto intatto E oggi abbiamo ritrovato tutto fuori Volgarità Scritte dappertutto Insomma basta Non se ne può più Avete avvertito anche le forze dell'ordine Sì stamattina io ho chiamato i carabinieri E i vigili L'avevo già contattato un po' di tempo fa Per mettere almeno una telecamera di sorveglianza Ma avevano detto che le spese erano troppo alte Ma dato tutti i danni Hanno sfasciato diverse volte anche quella parte lì del marmo E sono venuti a riaggiustarlo Dato tutti i danni Mi sa che una telecamera forse conveniva Non è purtroppo l'unico episodio Di questo tenore in questo spazio verde Anzi in passato Alcuni giochi di legno per bambini Sono stati rimossi Perché resi inutilizzabili Per gli atti distruttivi E le scorribande di questi gruppetti Rompere un bene comune Non è solo un atto di inciviltà E di menefreghismo È una sconfitta morale Per chi lo compie Dopo Bellocchi siamo andati con le nostre telecamere Nel quartiere Poderino Perché un altro segnalatore ci ha telefonato Per dirci che ci sono dei cassonetti Dell'isola ecologica Che praticamente straboccano ormai di rifiuti Sono dieci giorni Così almeno ci riferisce il segnalatore Che non vengono svuotati Dopo aver parlato della vendemmia E quindi dell'uva Si pronuncia un anno straordinario per il vino Sarà un'annata record Anche dal punto di vista della qualità Purtroppo non è così Per quanto riguarda l'olio E quindi l'oliva Se chi produce vino Quest'anno intona canti di giubilo Per la splendida annata Che si prospetta per i nostri vini Dato il clima che c'è stato nei mesi estivi Lo stesso clima fa piangere lacrime amare A chi invece in questi giorni sta raccogliendo Sempre che abbia deciso di farlo Le olive Il flagello della mosca olearia Anche quest'anno si è abbattuto sui nostri oliveti Da nord a sud Nessuno escluso Beh diciamo la situazione è una situazione drammatica Drammatica nel senso che come nel 2014 Il 2016 sarà quello che viene definito L'anno orribilis Nel senso ci sono state tutte le condizioni ideali Per lo sviluppo della mosca olearia Che è il nostro maggiore nemico per la qualità dell'olio Che cosa intendo? Intendo che quando abbiamo inverni caldi E stati freschi La mosca olearia che è presente nel nostro territorio Ha una riproduzione che se raggiunge determinati livelli Può compromettere Può compromettere la produzione di olio extravergine di qualità Questa è la mosca delle olive Ed è la responsabile appunto Questa è una mosca femmina Qua la vediamo nel momento in cui va a deporre E qui la vediamo per riuscire a capire la dimensione Però è drammatica ovviamente Per chi produce olio Gli agricoltori professionali e nella nostra provincia ci sono tanti agricoltori professionali Hanno un monitoraggio Sappiamo che questo è il nostro problema E effettuiamo un monitoraggio che inizia dal mese di maggio Fino ad arrivare ai giorni prima del raccolto Con delle trappole sessuali Ci saranno solamente a mio avviso due ripercussioni Uno probabilmente sarà il prezzo In queste condizioni è ovvio Perché non è un problema Attenzione pesaresi o marchigiano È un problema italiano Ma seconda cosa Quando il prezzo aumenta E quando c'è una carenza di prodotto nazionale Le importazioni aumentano alla nesima potenza Consumare olio di qualità è l'operazione più salutare Che possiamo fare quotidianamente quindi Non solo come aspetto gastronomico Ma anche neutraceutico Viste le proprietà antiossidanti dell'olio E questo concetto all'estero lo conoscono molto bene Dato che l'olio made in Italy È tra i più consumati al mondo L'olio è un'eccellenza marchigiana Italiana e mondiale Di fatto riusciamo a produrre Anche qui con le nostre produzioni biologiche O non convenzionali Con le tante tipicità e distintività del nostro olio Riusciamo all'estero A portare tanti prodotti È chiaro che dobbiamo stare attenti A consumare olio italiano Prodotti italiani Guardiamo l'etichetta Compriamo made in Italy Perché sicuramente Riusciremo a mangiare meglio Sia noi che i nostri figli Per gli appassionati di Dante E non solo Domenica prossima Due ottobre Nella splendida cornice Della Pinacoteca San Domenico A Fano Si tiene un evento culturale Promossa dall'Accademia Vitruvio Fano Nel mezzo del cammin di nostra vita Mi ritrovai Per una selva oscura Che la diritta via Era smarrita Allora un modo un po' diverso Particolare per affrontare Insomma una lettura E una interpretazione Del sommo poeta di Dante Sì questa nostra iniziativa L'iniziativa dell'Accademia Vitruvio Di Fano Si svolgerà Domenica Due ottobre In un ambiente Direi magico Qual è quello Della Pinacoteca San Domenico Alle ore 17.30 del pomeriggio Quindi è un orario In cui si presuppone Ci possa essere Una buona affluenza Di pubblico L'ingresso è libero Quindi ci aspettiamo Una buona affluenza Da parte della cittadinanza È una serata In cui insieme Gli organizzatori Della Vitruvio E i cittadini di Fano Potranno godere Della grande poesia Di Dante E color cui tu fai Cotanto mesti Allor si mosse E allora ci siamo quasi Ricomincia la stagione Autunno-inverno Televisiva Anche per noi E questa sera Il primo programma A riprendere È Missione Salute Che tanto successo Ha ottenuto Nella prima edizione In studio Vedo almeno Nel monitor di servizio Lino Balestra Buonasera Lino Allora Qual è il tema Della serata E chi sono i tuoi ospiti Buonasera Marco Buonasera a tutti i telespettatori Riprendiamo Questo secondo ciclo Di Missione Salute Marche Nord Istruzioni per l'uso E il sottotitolo è Quanto mai evocativo Istruzioni per l'uso Avremo ospiti in studio Come prima puntata Parte del reparto di ortopedia L'unità di ortopedia Di Marche Nord Con il suo primario O il direttore Come si chiama adesso Pierangelo De Simoni E due componenti Della sua equip Come sempre Come anche anno scorso La scorsa volta C'è uno spazio dedicato Ai telespettatori Che si possono collegare Con noi in diretta Telefonando Al nostro numero di telefono 861433 Per rivolgere Come sempre Nella seconda parte Del programma Le loro osservazioni Le loro domande E interagire direttamente Con gli ospiti in studio Bene Allora Ci vediamo tra poco Grazie per aver seguito Il nostro telegiornale L'appuntamento Con l'informazione Su Fano TV Torna domani mattina Alle 7.30 In diretta Per la rassegna stampa Occhio ai giornali A voi tutti L'augurio di una buona serata Arrivederci L'appuntamento 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 L'appuntamento